E' Giuseppe Melissano il nuovo segretario generale della CISL Funzione Pubblica a Puglia. La sua elezione giunge al termine del quinto congresso regionale del sindacato che si è svolto nella sala convegni dell'ospedale regionale ecclesiastico Miulli ad Acquaviva delle Fonti. Con lui in segreteria anche Giovanni D'Alessandro e la riconfermata Stefania Dilena. Il congresso molto partecipato dai delegati in rappresentanza dei 16.000 iscritti ha visto anche gli interventi di Franco Surano della segreteria USR CISL Puglia e Angelo Marinelli della CISL FP nazionale oltre ad Antonio Nuziante vicepresidente della regione Puglia. Lui non è stato il rappresentante dell'organizzazione, lui è stato l'organizzazione sindacale e per noi è un punto di riferimento, rimarrà sempre un punto di riferimento. Le priorità che noi abbiamo oggi sono quelle di affrontare tutti i problemi, dalla sanità a quella degli enti locali, alle problematiche della regione Puglia, ma anche a situazioni che si annoverano nello Stato, nelle agenzie. Sono delle priorità che noi dobbiamo affrontare con la comunione di intenti, soprattutto insieme. Ecco la parola che noi vogliamo mettere in campo in questo periodo è quello di essere insieme, motivare quelli che sono i quadri dirigenti, creare sinergia e attivarci affinché i nostri ideali, i nostri valori che sono quelli per la persona e per il lavoro vadano avanti e nello stesso tempo trovino risposte per i lavoratori e con i lavoratori. In avvio dei lavori congressuali la relazione commossa incisiva di Enzo Lezzi, segretario generale uscente CISL Funzione Pubblica Puglia, alla conclusione del suo terzo mandato che ha innanzitutto ringraziato i numerosi ed autorevoli ospiti intervenuti, oltre ai delegati e le delegate, i 16.000 iscritti alla CISL Funzione Pubblica della Puglia. Lascio questa federazione dopo una responsabilità che mi ha visto alla guida per oltre 14 anni. È un periodo lungo che ho condiviso con tanti amici, ho conosciuto tanta umanità e mi sono confrontato con istituzioni nei diversi livelli, da regionali e di enti. Devo dire, la lascio con la certezza che è una federazione forte, coesa, che è su piano organizzata, culturalmente attrezzata per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Si tratta di sfide importanti, di sfide legate appunto, come dice il tema di questo congresso, legate all'innovazione organizzativa e quindi così come in questo momento il tema è quello dell'industria 4.0 nel Paese, un'industria 4.0 non ha un futuro se non c'è una pubblica amministrazione 4.0 che ne sostenga appunto la crescita. Io credo che questa è la sfida, cambiare la pubblica amministrazione e renderla più efficace e più efficiente, rispondere ai bisogni della gente e del sistema di imprese di questo Paese.